Benvenuti in questo nuovo Tessilan News. Come ben sapete l'assistenza non si ferma in chat o al telefono e a noi piace tantissimo esaudire più che altro i vostri desideri. Una delle domande e delle richieste che abbiamo ricevuto in chat nell'ultima settimana è stata proprio quella di poter paragonare i colori del bravissimo Batik con quelli del bravissimo Tinta Unita. E allora eccomi un Tessilan News in cui scopriremo quali sono le tinte da abbinare al bravissimo Batik. Scopriamole insieme! Eccoci qui, iniziamo a scoprire il bravissimo Batik nella colorazione beige. Come vedete questi sono colori che richiamano un po' la natura, quindi nel periodo autunnale dove tutto si colora di giallo possiamo visionare queste sfumature, questo degradé. Il primo colore che vorrei mostrarvi in abbinamento al beige del Batik è il bravissimo nella colorazione ocra. Qui abbiamo ecco un colore bello forte d'impatto che si abbinerebbe benissimo al beige. Secondo colore in palette con il beige è il nocciola. Anche qui come vedete ricordo sempre che i colori non sono identici ma bensì sono similari, quindi potete creare semmai un cardigan nella versione sfumata e un sottogiacca per esempio nella versione Tinta Unita. Ultima proposta in Tinta Unita da abbinare al bravissimo Batik è il bravissimo Moro. Come vedete il colore scuro sta benissimo in contrasto al gomitolone sfumato beige. Quindi come prima variante Batik beige abbiamo concluso qui il trio di bravissimo Tinta Unita da abbinare. Sicuramente il colore che io indosserei di giorno in giorno è il fucsia. In particolare oggi voglio parlarvi di queste sfumature che fanno parte del bravissimo Batik color cipria. Come appunto vi avevo già anticipato partiamo subito con un'esplosione di colore, quindi perché non andare sul fucsia. Qui potete divertirvi anche con la realizzazione di un vestitino, un abitino, uno scialle, un cardigan, una t-shirt e semmai da abbinare sulla spalla, delle frange o delle lunghezze che fuoriescono nella versione sfumata. Altra versione, quindi altro abbinamento per il gomitolone cipria è sicuramente il rosa baby pink. Come vedete è un rosa abbastanza forte, quindi in contrasto si sposa benissimo con queste sfumature di rosa che trovate appunto all'interno del gomitolone. Per dare invece un tocco più, non so, bon ton, qualcosa di più elegante, c'è il color cipria, quindi del bravissimo Tinta Unita da appunto abbinare al Batik cipria. Rieccoci con la nuanza, diciamo, nera disponibile in catalogo. Per un tono, diciamo, più classico, chic ed elegante, possiamo lasciarci ispirare dagli abbinamenti da fare con il nero. Il primo abbinamento che voglio proporvi è questo con il grigio chiaro. Come vedete ci sono delle nuanze che richiamano appunto il gomitolone sfumato che si presterebbe benissimo da indossare contemporaneamente. Seconda versione di grigio, in questo caso parliamo di grigio normale, quindi lo trovate in catalogo solo con il nome grigio, da abbinare sempre alle sfumature del Batik nero. Da abbinare a questa scala di grigi sicuramente non può mancare il bianco, un, diciamo, uno stacconetto da indossare insieme. Nella proposta panna del bravissimo Batik sono stata un po' limitata nella ricerca, proprio perché c'è una nuance di grigio chiaro che si sposa benissimo con i contrasti dello sfumato. Oppure potete abbinare al bravissimo Batik panna, il bravissimo Tintomita panna. Qualcuno direbbe verde speranza e dopo due anni trascorsi come questi direi che ci vorrebbe una pioggia di speranza. Allora, voglio iniziare subito, qui avete davvero una grandissima scelta, avete l'imbarazzo proprio della scelta. Sicuramente iniziamo, voglio ecco, iniziare a mostrarvi questa nuance di verde Tiffany, molto elegante e raffinato, quindi richiama benissimo le sfumature del Batik verde e potete appunto utilizzarlo per qualsiasi realizzazione. Altra colorazione per dare uno stacco davvero d'effetto con il Batik verde è sicuramente il verde Tintomita del bravissimo. Un abbinamento fresco, frizzante e giovanile è sicuramente quello del Batik verde con il bravissimo Smeraldo. Come vedete all'interno delle sfumature ci sono dei piccoli appunto tratti di azzurro, di celeste, che abbinati a questo Smeraldo fa davvero un effetto particolare. Ultimo abbinamento da appunto proporvi è questo del bravissimo color Prato, un abbinamento frizzantino e dall'aria giovanile anche questo da utilizzare nei vostri look. Beh, allora, sono colori meravigliosi, mi raccomando, provateli e fateci sapere ciò che ne pensate. Io vi saluto, questo Tessila News termina qui e vi ricordo di iscrivervi al canale e di azionare la campanella. Condividete anche i nostri video se vi piacciono nei vostri profili social, iscrivetevi anche ai nostri social come Facebook, Instagram e TikTok e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! Ciao!